Grazie al professor Fabrini se ho inteso bene posso intervenire? Per me sì, ho fatto circa 45 minuti No, mi pare perfetto io essendo del settore scientifico disciplinare istituzione di diritto pubblico e avendo il professor Fabrini concluso ponendo al centro il tema della sovranità sono contentissimo vorrei stappare una bottiglia di champagne perché tra l'altro è il tema che anche nel corso di diritto dell'informazione dei media ci sono un po' di studenti di questo corso che seguono l'abbiamo posto come tema centrale dell'altro aspetto che è stato sottolineato all'inizio dal professor Chiarotto e comunque sotto traccia c'era in tante riflessioni anche del professor Fabrini cioè Macron con Macron Draghi con sovranità digitale europea dove l'aspetto della sovranità europea è più visibile però c'è anche, come dire, c'è anche un però ed il però è questo sostanzialmente relativamente alla sovranità e cioè il tema che è stato posto giustamente dal professor Fabrini della sovranità divisa e qui entriamo in un ambito giuridico ovviamente i giuristi sono molto conservatori nel senso che non sono tendenzialmente dei visionari e giustificano spesso il presente però il tema della sovranità divisa per noi giuristi io l'ho trattato un po' nel corso e passa attraverso una nozione di sovranità diversa però il tema, cioè la sovranità divisa non è accettata dai giuristi dobbiamo dire la verità cioè non è un aspetto giuridico ancora è un aspetto di prospettiva politica ma quando Macron parla di sovranità e lui sa benissimo cos'è la sovranità sentendosi giove in realtà quando parla di sovranità digitale europea è ancora una prospettiva politica cioè come quando ha fatto il decalogo alla Sorbonne come quando ha fatto i tre punti al Parlamento europeo è una prospettiva ancora politica dal punto di vista giuridico però lo dico subito perché io sono perfettamente in linea col professor Fabbrini in una linea federalista la prospettiva è una prospettiva di tipo che può essere risolta passando attraverso Santi Romano la nozione di sovranità di Santi Romano che il Santi Romano sostiene che esistono la società crea ordinamenti esistono degli ordinamenti preesistenti ordinamenti già strutturati preesistenti allo Stato e il problema che aveva davanti Santi Romano era il coordinamento tra questi ordinamenti preesistenti allo Stato e lo Stato, la sovranità statale e qui dobbiamo passare attraverso questa visione da un punto di vista giuridico però anche qui passiamo anche però dobbiamo essere realisti e dire che Santi Romano non se lo fila nessuno e anche la prospettiva del federalismo europeo solo grazie alla pandemia sta un po' ritornando in auge io richiamo due conferenze che sono state fatte dalla Bobbio una con Scheffers l'ambasciatore tedesco in Italia di un po' di tempo fa, del 2013 che quando gli fu posta la domanda sul fatto che ci voleva solidarietà europea per aiutare l'Italia a uscire dalla crisi del 2011 sostanzialmente Scheffers disse con linguaggio diplomatico sì, ci vuole solidarietà ma ci deve essere controllo dei conti allora io intervenne e disse se c'è controllo dei conti l'unico possibile controllo dei conti è quello in una prospettiva federale come voi ben sapete tedeschi perché l'altra prospettiva sottointesa era il commissariamento dell'Italia cioè la Troica all'Italia e quello poi è successo alla Grecia e quello è un abominio quello che è successo da parte delle istituzioni europee ma è stato fatto in quegli anni poi ha chiesto scusa hanno chiesto scusa anche Juncker e Company però è successo una cosa gravissima quella quindi ecco gli elementi di criticità anche è stato bravissimo il professor Fabrini perché ha detto che l'europeismo c'ha anche qualche crepa ecco da risolvere e allora ecco che qui è chiaro come Scheffer si disse la prospettiva europea non ne parla nessuno disse semplicemente in linguaggio diplomatico ed è modè nessuno ne parla adesso con la pandemia qualcuno ne parla della prospettiva ma è il vero è il vero nodo è l'unica soluzione oppure un'invenzione di un concetto di sovranità divisa che passa attraverso questi concetti di Santi Romano è un'invenzione di un qualcosa di nuovo rispetto intermedio rispetto allo Stato tra lo Stato federale e la Confederazione di Stati perché forse quello che ha prospettato il professor Sergio Fabbrini è una Confederazione di Stati che non metta in comune però solo la difesa ma io mi sono segnato almeno altri quattro punti estero, immigrazione, ambiente e fiscalità quindi un nuovo concetto di macro Confederazione che non è però uno Stato federale questo è da un punto di vista giuridico però per esempio è in contrasto già con un elemento che da un punto di vista giuridico studiando le nuove tecnologie proprio non a caso il settore delle comunicazioni elettroniche e cioè i regolamenti europei cioè già c'è uno strumento giuridico che è il regolamento europeo che non a caso è stato usato per la riservatezza dei dati personali il regolamento che ha costituito un primo una prima un primo punto un primo nucleo di sovranità digitale europea è il regolamento europeo sui dati personali sulla riservatezza dei dati personali a livello elettronico questo il regolamento europeo entra immediatamente nell'ordinamento degli stati membri al di là di quello che possa dire la Polonia entra immediatamente nell'ordinamento degli stati membri come una legge e l'unico strumento che possono avere gli stati membri per far saltare un regolamento europeo è quello di far saltare il collegamento tra l'Europa e lo stato membro dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge che dà attuazione ai trattati europei o delle leggi diverse che danno attuazione ai trattati europei quindi diciamo questi sono snodi giuridici che ho cercato non riuscendoci di trattare con la semplicità e con la chiarezza solo i grandi hanno la semplicità e la chiarezza con la quale ci sono stati esposti dal professor Fabrini però gli snodi sono questi e quindi per rompere il ghiaccio e spero ecco che ci siano delle domande io ne formulo già due o tre però le metterei come dire darei al professor Fabrini la possibilità di appuntarsi adesso le domande che vi faccio per dare spazio invece alle altre e poi di usarne una alla volta le mie fino a che qualcuno non rompe il ghiaccio non interviene allora la prima è quella relativa a questa sovranità divisa questa Europa integrata e anche pensiamo al tema dello Stato di diritto come elemento costituzionale dell'Europa tant'è vero che si entra nell'Europa oppure si rimane nell'Europa se si rispetta allo Stato di diritto i criteri di Copenaghen sono diventati criteri da politici a giuridici però ecco c'è stato un tradimento in questi anni oltre quello della Grecia anche quello dei Catalani i Catalani si sono visti schiudere la porta un po' dell'Europa perché quando hanno chiesto l'aiuto dell'Europa l'Europa gli ha risposto è un problema della della Spagna va risolto all'interno della Spagna hanno risposto in termini giuridici non nel 2017 con questa apertura invece che speriamo con la pandemia ci sarà quindi c'è questo sono milioni di Catalani che non si sentono Spagnoli sono circa metà il problema che sono metà è certo la dichiarazione di indipendenza illegittima dal punto di vista giuridico ci ha messo un secondo il Tribunale Costituzionale Spagnolo a dichiarare l'illegitività però sono milioni circa la metà perfetta di Catalani che non si sente Spagnolo e ha chiesto di entrare nell'Europa e praticamente gli hanno risposto anche dicendo guardate che se voi uscite dall'Europa non è che potete avere l'euro cioè l'euro lo dovreste riottenere casomai anche se riuscite a ottenere l'indipendenza solo con l'approvazione praticamente anche dalle Spagna sostanzialmente quindi c'è stato un tradimento e poi una seconda domanda che volevo fare era quella cioè è stato bellissimo la soluzione euro tra Germania e Francia che è stata prospettata da Fabbrini da professor Fabbrini però l'Italia veniamo all'Italia l'Italia in quegli anni lì era nelle stesse condizioni di oggi ha chiesto la garanzia di Ciampi Ciampi ha garantito che il nostro paese avrebbe fatto le riforme per noi migliorarci e stare dentro l'euro e godere dei benefici dei bassi tassi dell'euro adesso ci troviamo nella stessa situazione tra l'altro un luogo tenente di Ciampi Draghi si fa da garante con Europa perché ci vengano dati questi soldi dei quali abbiamo tantissimo bisogno e ne hanno dati più a noi che a tutti l'Europa sostanzialmente in parte da restituire in parte anche piccola a fondo perduto anche qui una prospettiva interessante federale però siamo nella stessa situazione in realtà cioè l'impressione purtroppo brutta su questo l'Italia che l'Italia non stia facendo completamente le riforme ma stia prendendo una via un po' così un po' degli anni dei vent'anni che hanno preceduto questa situazione e infine una terza domanda che riguarda l'aspetto estero e cioè il semestre della presidenza europea in capo alla Francia ecco come farà la Francia e Macron a gestire il semestre di presidenza europea dove si deve spogliare un po' anche del ruolo di presidente francese in piena campagna elettorale perché chi guida tradizionalmente il semestre di presidenza europea guida tutte le conferenze e lo deve fare in un'ottica tendenzialmente europea non cercando un po' di mettere sotto tono i propri interessi nazionali ecco della Francia e lo fa in una campagna elettorale dove potrebbe avere sì come sfidante la Le Pen ma forse ecco qui che gli viene un aiuto invece dal fatto dalla situazione potrebbe avere invece l'esponente dei Republican e quindi in questo caso l'esponente dei Republican è un esponente europeista e quindi su questo ci sarebbe un vantaggio per Macron perché potrebbe gestire il semestre di presidenza anche in campagna elettorale almeno un mese prima dovrà spogliarsi un po' di questo di questo aspetto però se la competitor sarà la rappresentante dei Republican sarà vantaggiato chiedo scusa ho fatto tre domande ma sono tre domande che rimangono sullo sfondo e potrebbero anche non non avere risposta se non poi magari tra di noi via e-mail però direi che sono state poste veramente tante questioni centrali io ho chiesto chiedo scusa di averle volute sfruttare ma le ho volute sfruttare per la chiarezza con la quale sono state poste e proprio per i miei studenti che hanno nel mio corso c'è stato un tentativo di chiarirle queste cose ma qui hanno avuto un campione che è il professor Fabbrini che le ha spiegate in maniera molto più chiara delle mie 48 ore di lezione nel corso e quindi l'ho voluto sfruttare chiedo scusa di averlo sfruttato per i miei figli ma che forse sono anche i fini dell'università della politica perché l'università della politica va al nodo delle questioni e come ho detto per esempio con Scheffers ne aveva già trattato nel 2013 di questi temi e ne trattò anche con Biagio di Giovanni perché anche Biagio di Giovanni trattò di questo tema proprio in relazione al tema sovranismo europeismo sempre la università della politica della Bobbio e sempre nel 2013 quindi adesso io spero che nella chat ci siano delle domande se non ci sono o non le vedo io non le vedo si aspetta Daniel Monti ha chiesto la parola al senatore Sonego ah ecco certo il senatore Sonego sicuramente con anche il ruolo istituzionale che ha avuto nella diciamo come parlamentare italiano per i rapporti della CEI cioè della diciamo dell'Europa centrale ecco ha guidato la delegazione europea e la delegazione italiana in quest'ambito europeo sicuramente ha la possibilità e glielo chiediamo di fare la prima vera domanda buongiorno a tutti grazie nuovamente al professor Fabrini impostazione davvero largamente condivisibile quella che ci ha proposto questa stavolta vorrei porre una domanda che esula un po' dai miei interessi tradizionali che guardano a est e vado in direzione opposta chiedendo il punto di vista di un osservatore particolarmente attento come il professor Fabrini del mondo anglosassone Brexit sappiamo abbastanza riusciamo a percepire abbastanza della difficile controversia di come risolvere questo nodo del Brexit sulle questioni tra l'isola della Gran Bretagna e l'Europa rimane ancora completamente misteriosa almeno per me l'ipotesi di una soluzione del nodo irlandese cioè di quale modo potrà essere escogitato di quale ingegneria si potrà escogitare per risolvere la questione dei rapporti economici doganali in particolare tra l'Irlanda del nord e la più grande delle isole britanniche lì non enuncio il problema perché sarebbe troppo lungo e mi affido alla risposta del professor Fabbrini limito soltanto al cuore della domanda lì c'è una questione secolare che emerge che è quella del rapporto tra l'Irlanda tra la Repubblica d'Irlanda e l'Alster e lì emerge anche un'antichissima questione che non so quale peso possa avere oggigiorno che è quella della dimensione religiosa cioè del rapporto fra protestanti e cattolici nel nord Irlanda argomento che ci porta dritti alle questioni che verranno affrontate in una conferenza successiva a quella della professoressa Bottoni che affronterà appunto il nodo della dimensione religiosa nei processi di integrazione e allora la domanda che faccio dopo questo perfino troppo lungo lunga premessa è la seguente in che modo il professor Fabbrini è possibile ipotizzare in un contesto di pace di non ripresa dei travels una soluzione della questione Brexit in Irlanda del nord e risvolto secondario di questa domanda nell'Irlanda del nord la questione del Brexit mantiene come aveva una volta una dimensione religiosa o è prevalentemente una questione economica ecco grazie alla domanda ottima del senatore Sonego io vedo anche Sergio Chiarotto che in quanto direttore della Università della Politica potrebbe intervenire con una sua competente domanda spero e sono che aspetto sempre anche eventuali domande in chat del numeroso pubblico che c'è non si sente non si sente professor Chiarotto deve accendere il microfono deve accendere il microfono eccomi prendendo spunto da uno degli ultimi articoli del professor Fabbrini una domanda complessa difficile semplicistica nella sua formulazione il nuovo presidente della Repubblica in che misura potrà essere patriota e in che misura dovrà essere europeista bellissima domanda anche questa vedo Marigliano il presidente della Bobbio vedo l'amico Populini socio fondatore della Bobbio si ricordo bene anche loro se vogliono basta che accendano il microfono e possono fare una domanda se non intervengono io darei la parola al professor Fabbrini per rispondere alle prime due domande quella del senatore Sonego sull'Irlanda e quella del professor Chiarotto invece sull'Italia alla presidenza della Repubblica tanto grazie risponderò anche alla domanda di Guglielmo essendo la vostra l'associazione Norberto Bobbio la chiarezza dovrebbe essere la nostra ossessione questo è il più grande insegnamento che io ancora oggi continuo a ricevere da leggere Bobbio la sua ultima lezione è un esempio di questo formidabile comincio dalle domande di Guglielmo la prima domanda che riguarda la sovranità di Lisa naturalmente io sono consapevole di essere una minoranza in una cultura pubblica non solo italiana avendo passato buona parte della mia vita all'estero non solo italiana ma anche in altri paesi dell'Europa continentale che ha quest'idea che la sovranità non può che essere unitaria un mio vecchio professore di diritto mi diceva uno non può essere incinta a metà la sovranità o si è incinta o non si è incinta sono passati non so quanti anni da quando avevo i pantaloni corti facevo i primi anni di università e ancora adesso mi ricordo di questa definizione della sovranità in cui o c'è o non c'è in realtà le cose non stanno così non stanno così non solo sul piano teorico ma questo non è il caso di discuterlo adesso ho dedicato molto tempo a questa diciamo così ricerca scientifica ma anche sul piano empirico e la mia esperienza negli Stati Uniti mi ha consentito di capire anche molto come dire in modo approfondito cosa si intende per sul piano empirico personalità divisa ora noi abbiamo un'idea del federalismo che è fortemente connotato dall'esperienza connotata dall'esperienza tedesca in realtà il federalismo è un genere al quale partecipano o al quale fanno parti specie diverse abbiamo cioè due almeno tipi di sul piano empirico di sistemi federali che hanno logiche molto diverse tra di loro c'è un tipo di federalismo che è quello che noi chiamiamo federalismo per disaggregazione è il modello tedesco dopo la seconda guerra mondiale il modello seguito poi dal Belgio dall'Austria è il modello australiano è il modello in parte canadese il modello tedesco è più rilevante perché ha un'implicazione diretta nel dibattito europeo la Germania federale post bellica nasce da un accordo a tavolino gestito dalle autorità militari che avevano occupato quel paese disegnato da studiosi tedeschi che erano fuggite negli anni 30 in particolare Carl Friedrich che era professore a Darbar che ritorna a Bonn in quel periodo con i suoi studenti per disegnare una federazione per disaggregazione di fronte all'ipercentralizzazione dei terzo rai la preoccupazione principale è che non si creasse più quella situazione che loro chiamavano depression syndrome la sindrome prussiana avere uno stato dentro la federazione più forte di tutti gli altri stati al punto da determinare la logica di funzionamento di quella federazione così è avvenuto ovviamente con la federazione tedesca che emerge ovviamente con la nascita dello stato unitario tedesco nel 1871 ora e che arriva fino alla fine della prima guerra mondiale il cancelliere della Prussia era il cancelliere della Germania l'imperatore della Prussia era l'imperatore della Germania ora questa ossessione che loro chiamano depression syndrome doveva essere risolta subito e quello che viene fatto nel dibattito che si ha in quel periodo è di disaggregare addirittura i lender se voi guardate i lender tedeschi sono per larga parte si dice in america in inglese hyphenate diciamo il trattino sono stati creati ex novo non toccando solamente la Baviera e le due città-stato Brema e Hamburgo la Baviera però di ragione essendo allora l'unico land cattolico in un'area prevalentemente protestante questa idea che nessun land dovesse potesse assumere una popolazione superiore al 30% della popolazione totale della nuova Germania federale questa idea è un'idea che in qualche modo semplifica il nostro concetto di disaggregazione cioè un centro si disaggrega per ragioni che hanno a che fare con la stabilità democratica per rendere possibile il controllo del potere per dividere e rendere accettabile il suo esercizio e per consentire ai cittadini di controllare meglio chi esercitava quel potere la Germania nasce dalla paura della politica la Germania nasce dalla paura della politica una paura detto caveat tra di noi che ha esportato a livello europeo ora questo modello è un modello che può mantenere essendo partito dal centro un carattere parlamentare quindi abbiamo il Bundestag che è l'istituzione parlamentare che dà la fiducia al cancelliere a Scholz qualche settimana fa e che poi ha al lato una camera che rappresenta il Landen ma che non ha funzioni di governo il Bundestag questo questo modello è il modello che poi essendo la Germania avendo la Germania una presenza molto qualificata nelle istituzioni europee all'interno del Parlamento europeo all'interno dei due maggiori partiti il Partito del Popolo Europeo e il Partito Socialista Europeo la Germania ha esportato questa visione e in qualche modo l'Unione Europea ha anche adottato alcune delle istituzioni proprie del federalismo tedesco pensate al nostro Consiglio dei Ministri che funziona secondo una logica non dissimile da quella del Bundesrat oppure pensate da ultimo al tentativo di istituzionalizzare lo Spitzenkandidat come Presidente della Commissione Europea che è tipico della convenzione della procedura che viene usata dai partiti politici tedeschi per scegliere il loro cancelliere tuttavia questa è una specie del modello federale c'è invece un'altra specie che è quella del federalismo per aggregazione non disaggregazione cioè di stati precedentemente indipendenti che decidono di aggregarsi principalmente per ragioni di sicurezza abbiamo due casi che si sono consolidati e che hanno avuto successo nel mondo democratico di nostra conoscenza una ovviamente gli Stati Uniti del 1787 e poi la Svizzera del 1848 ora qui la logica di integrazione parte dagli dagli stati nel caso degli Stati Uniti o dai cantoni che sono l'equivalente funzionale di uno stato nel caso della Svizzera e quindi loro gli stati e i cantoni hanno cercato di preservare per se stessi più potere possibile mentre là in Germania è stato il centro che cercava di preservare più potere possibile ora l'Unione Europea è stata e continua ad essere percepita come uno come uno stato federale in formazione quasi che noi dovessimo imitare il modello tedesco e di qui nasce quest'idea che la sovranità anche con lo stato federale rimane unitaria perché in Germania è chiaro che c'è una sovranità unitaria è chiaro che il cancelliere e il bund sta con la sua maggioranza rappresenta il bund non c'è una sovranità divisa ma questo però è l'esperienza del federalismo che noi abbiamo cominciato ad assumere come inevitabilmente naturalmente nostra così secondo me è difficile che sia perché noi nasciamo da aggregazioni di stati che hanno dimensioni demografiche diverse Malta ha meno di 500 mila abitanti la Germania ha 82 milioni di abitanti Malta da 6 rappresentanti del Parlamento Europeo la Germania ne ha 96 siamo aggregati aggreghiamo stati che hanno identità nazionali distinte lingue distinte culture distinte in molti casi addirittura religioni distinte ora è evidente che qui non possiamo centralizzare come si è stato fatto a Bonn e poi a Berlino dentro il Bundestag con lo Spize Candidate che rappresenta una maggioranza del Parlamento essendo i Lender omogenei sul piano culturale omogenei sul piano linguistico e con un equilibrio una simmetria relativamente gestibile nel nostro caso siamo di fronte ad una assimmetria sostanziale linguistica demografica istituzionale che rende difficile un modello di centralizzazione quindi di trasferimento della sovranità che era prima negli stati membri alla federazione ed è questa la strada secondo me che ci ha portato in grandi problemi che ha creato problemi allo Spize in candidato e che questa è la strada che io cerco di spiegare può essere in qualche modo anche scivolosa ma uso questo aggettivo per non usare un aggettivo un po' più diciamo dire pregno anche per Macron perché quando Macron parla di sovranità intende la sovranità alla Jean Baudin cioè che la sovranità che abbiamo adesso a Parigi la trasferiamo a Bruxelles secondo il modello emerso con la vittoria di Giacobini oppure lui pensa alla sovranità che era preservata in qualche modo promossa dalla componente che ha perso dopo la rivoluzione francese cioè i Girondini dove era una visione appunto federale che la sovranità può invece essere riorganizzata in modo diverso ecco io penso che il ruolo diciamo politicamente della discussione sulla sovranità è utile per fare questa chiarezza come ho scritto in uno dei miei editoriali su Solo 24 ore sono rimasto come dire sono colpito da come Mario Draghi invece abbia sviluppato una visione della sovranità che va nella direzione della sovranità divisa e non della sovranità unitaria che percepiscono nelle componenti più europeiste del mondo francese il discorso che ha fatto per la sfiducia al governo nel febbraio dell'anno scorso è un secondo me è davvero una delle cose più chiare che io abbia letto da parte di un politico su questo concetto di sovranità divisa l'anno scorso ho insegnato ad Harvard e lui ha tenuto un discorso ad Harvard sul concetto di sovranità che ancora adesso io lo propongo ai miei studenti come materiale di seminario che ancora adesso è molto rilevante quindi è vero quello che dice Guglielmo io sono minoranza sicuramente nella mia disciplina però credo anche che la realtà spesse volte spinge in una direzione che le discipline non riescono spesso a anticipare e a prevedere ed è questo il mio costante tentativo di spiegare non solo ai miei studenti ma ai miei lettori che occorre avere una visione post-ideologica le teorie sono al servizio dell'azione politica l'azione politica non è al servizio delle teorie il secondo per chiudere questo punto è evidente che l'Europa essendo un'aggregazione di stati non può andare verso la centralizzazione di Berlino deve trovare un suo modello e di qui quello che ho cercato di elaborare come alternativo al concetto di stato federale il concetto di unione federale Guglielmo diceva una confederazione rafforzata siamo proprio unione federale tra la confederazione che mantiene le sovranità nei singoli membri della confederazione e lo stato federale che trasferisce la sovranità al centro c'è una strada intermedia che è l'unione federale che è quella che condivide la sovranità collocando una parte al centro e una parte negli stati o nei cantoni è chiaro che le unioni federali sono molto più fragili degli stati federali perché non è non è certo dove risiede il potere dell'ultima parola noi non sappiamo e lo vediamo oggi in modo drammatico quello che succede a Washington DC non sappiamo chi è al potere dell'ultima parola nel caso di Trump c'è il presidente c'è un congresso che a sua volta è diviso gli stati rifiutano di considerare una particolare legge come la legge della land della terra c'è un continua discussione un continuo contrasto su dove mettere il confine tra ciò che è proprio del centro e ciò che è proprio degli stati molti stati hanno rifiutato l'Obama-Achea altri stati hanno rifiutato le scelte di Trump sul piano ambientale e queste unioni federali come dicevo prima nella mia lezione stanno in piedi se c'è una predisposizione al compromesso tra leader politici elite politiche ed opinione pubblica quando ci si radicalizza o ci si polarizza come sta avvenendo in questo momento non c'è un luogo dove quella polarizzazione può essere risolta una volta per tutto non c'è le elezioni del Parlamento in cui vince una maggioranza ed è chiaro allora il paese dove deve andare nelle sovranità divise il luogo dell'ultima parola non esiste il governo è un processo più che un'istituzione e questo richiede una qualità dell'elite in modo particolare e delle opinioni pubbliche che è veramente una qualità notevole ed è questo è stato il miracolo americano per chi la conosce chi l'ha studiato chi ci ha vissuto capisce subito come è stato possibile tenere insieme persone così diverse è stato un miracolo e oggi vediamo che quel miracolo potrebbe essere messo in discussione la seconda domanda di Guglielmo è chiaro che il ruolo dell'Italia non voglio entrare adesso nel modo specifico oggi ma il ruolo dell'Italia è stato molto importante nel processo di integrazione perché l'Italia con il suo diciamo così benevolenza della sua istintiva predisposizione alla diciamo così al superamento del nazionalismo ha assolto funzioni di mediazione tra Francia e Germania è stato l'honest broker come si dice il mediatore onesto tra i due paesi e non avendo ambizioni né politiche come francesi né economica come tedeschi ha potuto assolvere questa funzione che è stata una funzione cruciale tuttavia questo ruolo questa funzione che ha portato le migliori politiche culturali italiane a pensare che l'Europa doveva aiutarci a realizzare quello che da soli non eravamo in grado di realizzare Ido Carli con il suo concetto di vincolo esterno ma tutta la tradizione dei grandi presidenti della Repubblica da Napolitano a Ciampi alla quale Mattarella c'è questa tradizione del fatto che l'Europa deve aiutarci abbiamo bisogno dell'Europa perché altrimenti da solo non riusciremo a fare le cose che dobbiamo fare ora però questo approccio che è stato ripeto di grande importanza altrimenti sarebbe un appendice dell'Africa del Nord piuttosto che un appendice in qualche modo dell'Europa questo approccio in Italia non può più funzionare intanto perché ha creato delle reazioni di insofferenza ce lo chiede l'Europa ha finito per generare un sentimento di ostilità nel confronto dell'Europa in qualche modo i 200 miliardi che ci stanno arrivando hanno ridotto quel sentimento di ostilità ma il framework mentale è stato quello dell'Europa ce lo chiede ora qui il passaggio che io ritengo importante fare ma non importante è esistenziale da fare è che abbiamo bisogno di classi dirigenti diffuse non solo dell'elite nazionale come il senatore Sonego ma anche le classi dirigenti diffuse quelli che gestiscono le scuole gli ospedali che gestiscono le organizzazioni territoriali quella classe di gente che prende decisioni che in qualche modo influenzano la vita delle persone quelle classi di gente che debbano fare un salto di qualità non solo intellettuale ma anche politico e capire che molte cose che l'Europa ci ha chiesto in realtà le avremmo dovute fare noi stessi avere una sanità che funziona ce ne siamo resi conto come è importante averla di fronte alla pandemia avere il fatto che abbiamo un sistema universitario in cui non c'è uno in città italiana noi il paese del rinascimento non c'è il paese di Galileo non c'è una città italiana tra le prime 150 università del mondo ma è chiaro che questo non può funzionare è chiaro che noi non possiamo andare avanti con un sistema in cui le persone pensano che in qualche modo siamo una piccola isola fuori dal mondo e possiamo consentirci quello che nessun altro paese si consente di fare qui è un problema più generale delle classi dirigenti un problema ovviamente della classe del ceto nazionale parlamentari altri funzionari dei ministeri ma anche un problema più generale dei territori il governo Draghi in qualche modo secondo la mia lettura è un compromesso tra l'elite nazionale fortemente tecnocratica e le classi dirigenti diffuse dei territori rappresentati da un partito come la Lega ad esempio ma è chiaro che è un compromesso molto instabile quindi è un compromesso che va consolidato e vanno cambiate le classi vanno cambiate le mentalità delle classi dirigenti diffuse e non solo va reso più efficiente più responsabile l'elite politica nazionale questo mi porta e poi dopo lo riprendo la superazione di Sonego alla richiesta di Chiarotto il presidente della Repubblica in un paese così instabile secondo diciamo l'analisi che ho fatto le ricerche che ho fatto è venuto ad esercitare un ruolo che è un ruolo del tutto estraneo rispetto al testo costituzionale in un paese in cui i governi hanno costantemente infibrillazione la presidenza della Repubblica a partire diciamo dagli anni 90 e poi in modo particolare negli anni successivi è diventato il punto di riferimento dell'Italia sul piano europeo internazionale assolto cioè il ruolo di garante della costituzione materiale del paese che non è solamente la sua carta formale ma anche la sua presenza la sua partecipazione a quel processo di interdipendenza con cui ho iniziato la mia riflessione la mia conversazione il presidente della Repubblica è diventato il garante dell'interdipendenza si è formato cioè in Italia intorno alla presidenza della Repubblica un vero e proprio diciamo così partito che io ho chiamato establishment in uno dei miei articoli che è fatto di direttori di grandi giornali esponenti della finanza leader politici responsabili grandi ambasciatori cioè un partito di persone che a livello centrale tengono il paese e che non hanno un riferimento partitico proprio all'interno del Parlamento questo è una grande virtù di questo paese se noi consideriamo ad esempio ma pensate solamente alla Grecia ma anche alla stessa Spagna non hanno un establishment noi abbiamo un establishment nel senso proprio di qualche centinaio di persone che ha in comune una appartenenza all'Occidente parla inglese è stata all'estero conosce come funzionano le altre grandi democrazie conoscono le istituzioni finanziarie conoscono le istituzioni accademiche e così via queste stati si è raccolte intorno al presidente della Repubblica quindi il presidente della Repubblica è diventato il garante dell'interdipendenza della nostra parte della nostra partecipazione sia all'Unione Europea che all'Alleanza Transatlantic che alla Nato perché guardate che l'europeismo in Italia è anche atlantismo qualche anno fa c'è un governo in Italia non molto tempo fa per dirvi la verità dopo il 2018 c'era un governo che faceva accordi con la Cina c'era un governo che pensava di avere rapporti amichevoli con la Russia quindi non sto parlando di cosa strada sto parlando di una minaccia costante che c'è in questo paese che non ha fatto i conti sempre come interdipendente questo establishment ci ha tenuto ma non può funzionare così una democrazia ha bisogno non può essere retta da un presidente della Repubblica che sa fermare un ministro del tesoro del tutto inappropriato come avvenne con il primo governo Conte o che sa dire che al ministero degli estri non può andare quella persona che non sa come funziona quel meccanismo internazionale quindi oggi il presidente della Repubblica per noi è soprattutto un garante dell'interdipendenza oltre che dell'indipendenza nazionale un garante dell'interdipendenza quindi la mia preoccupazione è che Natalella sia seguito da qualcuno o qualcuna che capisca che oggi se Biden ha bisogno di parlare per sapere cosa succede in Italia chiama prima il Quirinale generalmente non ha mai chiamato Palazzo Chigi i capi di governo degli altri paesi europei hanno chiamato quasi sempre il Quirinale prima di parlare con Palazzo Chigi quindi oggi dobbiamo avere una persona che dà questa continuità però dobbiamo anche porci il problema che non possiamo andare avanti così il paese deve avere una classe dirigente che stabilizzi il paese dentro l'interdipendenza dalla quale tutti noi dipendiamo che ci rende sicuri politicamente ci rende sicuri sul piano militare e ci rende sicuri sul piano democratico per quanto diceva il senatore Sonero sulla Brexit forse dovrei rispondere mio figlio che insegna a Dublino e dirige un'università che si chiama Brexit Institute ma quello che mi vorrebbe da dire io la vedo più dal versante inglese è che non c'è una soluzione di breve periodo alla questione nordirlandese discutendo parlando leggendo assoluto con i miei amici inglesi come l'idea che sarà il tempo a risolvere questo problema e come lo dovrà risolvere ovviamente nei temi in cui tutti noi ci immaginiamo e cioè c'è un progressivo spopolamento di giovani di famiglie protestanti che lasciano l'Aster per andare in Inghilterra che non vedono grandi prospettive che non vedono grandi prospettive a rimanere a Belfast la qualità delle istituzioni accademiche ma anche finanziarie ma anche industriali si è molto abbassata e c'è una crescita demografica della componente diciamo così cattolica evidente che in quell'angolo dell'isola i rapporti di forza stanno andando sempre a favore del mondo cattolico rispetto al mondo protestante i protestanti stanno perdendo la futura classe dirigente che preferisce andarsene ad Oxford a Cambridge a Londra e così via però contemporaneamente la Repubblica Irlandese non è così felice di farsi carico dell'Aster perché questa componente cattolica ha interiorizzato una lunga storia di radicalizzazione e di polarizzazione e soprattutto farsi carico dell'Aster vorrebbe dire farsi carico anche sul piano economico mentre presente che oggi la Gran Bretagna in particolare Inghilterra trasferisce risorse importanti a quella parte del Regno Unito quindi la soluzione è come verrà intanto deradicalizzata la componente cattolica all'interno dell'Aster e poi sul piano istituzionale trovando delle forme di associazione alla Repubblica Irlandese che riduca il carattere nazionalista della componente cattolica e ridia una forma di autonomia simile a quella che noi abbiamo ad esempio in Alto Adige questo tra l'altro mi consente di fare una piccola cavia sulla domanda che faceva prima Guglielmo la comunità d'autonoma catalana è un esempio diciamo così out of date fuori tempo delle logiche politiche il secessionismo catalano è l'onda lunga del nazionalismo ottocentesco del primo novecento l'idea che tu devi essere curioso religioso l'idea è noi esistiamo solamente tra persone che parlano come noi che sono simili a noi io trovo quel movimento veramente l'espressione di un nazionalismo che tutti noi siamo invece impegnati a superare dall'altra parte però penso anche che la Spagna non ha fatti i conti con i limiti del proprio nazionalismo per esempio sul piano istituzionale la Spagna è un sistema quasi federale ma il senato delle comunità d'autonoma delle loro regioni è un senato che non ha nessuna rappresentanza dei territori non rappresenta né i governi come il Bundestag né i cittadini come il senato americano è una struttura diciamo così controllata per molti aspetti dalla corona che non dà voce ai territori ora se io dovessi fare l'advisor di un conflitto di questa natura sul piano politico direi che da un lato occorre deradicalizzare il nazionalismo catalano ma dall'altro lato occorre federalizzare di più la Spagna dando alle regioni alle comunità autonome una voce una rappresentanza piena all'interno delle istituzioni perché se non ci sono istituzioni in cui quegli interessi regionali si possono rappresentare fanno pesare il loro punto di vista è chiaro che questi vanno nelle strade oppure cercano di uscire dalla federazione questo è il ruolo della democrazia adattare le istituzioni ai cambiamenti non pensare che le istituzioni come diceva Jefferson sono come dei vestiti che tu hai indossato quando avevi 15 anni e pensi che ti continueranno ad andare bene anche quando hai 50 anni i vestiti vanno adattati se le elite politiche non capiscono questo vanno incontro a delle difficoltà il professor Fabrini è stato bravissimo ma sintetizzo in tre secondi tre domande però poi lascio la libertà al professor Fabrini di rispondere o di rispondere solo a una con qualche battuta perché abbiamo poco tempo soprattutto per il professor Fabrini Angelo richiama il tema dell'euro a due velocità e quindi anche la possibilità di una rifondazione a due velocità secondo la linea della relazione del professor Fabrini Giovanni invece ci chiede se la rifondazione di una Unione Europea potrebbe essere ostacolata dal ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti Riccardo fa una domanda molto tecnica invece cioè in che rapporto come la vedono i sovranismi in relazione al suffragio universale del Parlamento europeo sono tre domande interessanti quindi è riuscito l'esperimento ci sono stati dei belli interventi come pubblico grazie sono tre domande ognuna dalle quali richiederebbe una conversazione a sé stante comincio con Angelo io non credo che possiamo pensare a un euro a due velocità tutte le esperienze comparate che studiamo che conosciamo non prevedono una cosa di questo genere noi dobbiamo avere un eurozona intanto molto più equilibrata di qui le proposte già domani cercherò di iniziare alcune riflessioni sulle proposte di Macron Draghi dobbiamo avere un eurozona più equilibrata che vuol dire più equilibrata ricordate quello che dicevo prima in Europa che c'ha una politica monetaria ma c'ha anche una capacità fiscale non esiste un'unione monetaria senza una capacità fiscale centrale questo è quello che dobbiamo dire il modello adottato del fatto di stabilità e crescita è un modello sui generis è un modello che non c'era non c'è da nessun'altra parte dobbiamo dare una capacità fiscale alle istituzioni centrali e questo ovviamente apre il problema di chi governa con la capacità fiscale ricordatevi Max Weber le tasse pongono il problema di chi ha il potere per prenderle e per gestire e qui c'è un problema fondamentale di istituzioni democratiche è possibile che noi abbiamo un Parlamento europeo che rappresenta i cittadini europei dal 1979 e non ha potere fiscale hanno fatto la rivoluzione nel 1776 con la parola d'ordine no taxation without representation noi oggi abbiamo representation without taxation qui c'è un problema fondamentale di ridisegno ora se qualcuno mi dice ma non è previsto i trattati ok ma questo non vuol dire che una cosa non deve essere tanto pensata proposta perseguita se chi fa politica è prisioniero dei trattati come prisioniero di un'ideologia è evidente che lasciamo perdere la politica come è il caso diciamo della cultura predominante tedesca riportiamo la politica e la competenza politica dentro il progetto di integrazione Giovanni io credo intanto che il ritorno di Trump è un problema serio per gli Stati Uniti e per il mondo siamo di fronte ad una forse la più seria minaccia alla democrazia costituzionale americana dalla vera civile del 1861 1865 Trump rappresenta una visione di nazionalismo antiliberale che ha assunto ormai caratteristiche antidemocratiche quindi questo è come fare è un problema che subito devono affrontare gli americani è un problema che riguarda un po' tutti noi perché l'America è nel bene e nel male io sapete penso più nel bene che nel male l'America ha comesso un sacco di errori gli americani hanno tanti difetti ma senza l'America non ci sarebbe stata l'Europa che abbiamo oggi e senza quel ruolo internazionale dei valori liberali di quella costituzione non saremmo mai cresciuti e diventati quello che siamo diventati oggi la critica all'America va fatta dentro il riconoscimento della gratitudine per l'America basta è sufficiente che qualcuno immagini cosa sarebbe il mondo se la potenza egemonica è la Cina di Xi e non l'America di Biden spesse volte molti non riescono a comprendere la dimensione di questo problema e si fanno motivare da piccoli sentimenti senza il grande quadro di riferimento quindi quello è un problema per l'America è probabile che il ritorno di Trump possa avere anche l'effetto contrario Giovanni cioè potrebbe dire esattamente il contrario agli europei o pensate voi alla vostra sicurezza quello che io America ho fatto nel 1955 dopo il voto dell'Assemblea Nazionale del 30 agosto del 1954 quello che io ho fatto tenere i russi fuori i tedeschi dentro e io rimanere qui quello che ho fatto adesso dovete farlo voi ma noi non abbiamo i mezzi per fare questo il processo deve essere un processo graduale fatto insieme perché non abbiamo i mezzi non tanto non abbiamo gli strumenti politici quindi dobbiamo rivedere i trattati non dobbiamo avere solamente una comune politica estera dobbiamo avere una singola politica estera e gli stati hanno la loro singola ma c'è una singola politica estera non ci sono 27 politiche estere nel rapporto con l'Ucraina ci deve essere una singola politica estera che deve rendere conto a un Parlamento e a un Consiglio per le scelte che vengono fatte ma poi oltre a questo non abbiamo i mezzi tecnologici industriali pensate semplicemente all'impegno enorme nell'industria della difesa che l'Europa opportunisticamente in alcuni casi in altri casi per ragioni storiche non ha perseguito noi veniamo fuori da un dramma così grande che c'è stato un rifiuto delle opinioni pubbliche europee ad andare nella direzione di uno sviluppo come dire militare ci siamo affidati alla protezione americana se non c'è più quella protezione americana entriamo in una transizione lunga e molto complicata le risorse sono scarsi se non investiamo nella difesa dobbiamo investire di meno nelle pensioni è difficile riuscire a mantenere questo livello di stato sociale e contattamente sviluppare uno stato della difesa la terza domanda scusa la terza domanda di Riccardo il problema del sovranismo è un problema non so dare una risposta a Riccardo alla sua domanda perché i sovranisti non lo sanno nemmeno loro che cosa vogliono fare noi conoscevamo il nazionalismo indipendentista sapevamo esattamente dove andava quello che voleva De Gaulle era un'Europa delle nazioni quello che voleva il Brexit il Farage era uscire dall'Europa per ritornare ad essere indipendenti avere il nostro servizio sanitario nazionale invece di mantenere il servizio sanitario nazionale degli altri una stupidaggine una vera e propria stupidaggine responsabilità dell'elite intellettuale inglese a non contrastare le stupidaggine il luogo dell'intellettuale non è vincere le elezioni ma conquistare la verità imporre a chi dice le bugie che c'è un rapporto con la verità con i fatti che non possono sfuggire questo è il nostro compito non conquistare i voti e lì c'è stata una timidezza complessiva dell'elite intellettuale di quel paese che ripeto io stimo moltissimo per ciò che ha fatto storicamente ma che questa volta ha dimostrato la sua debolezza in quella sorta di autosufficienza ora se noi conosciamo il nazionalismo non sappiamo esattamente cosa c'è il sovranismo per esempio se voi vedete come ho cercato di fare io in una ricerca di Horizon finanziata dall'Unione Europea dalla Commissione Europea ci sono andati a vedere i discorsi del Presidente del Premier Polacco del Premier Ungherese dei nostri Le Pen Salvini e voi vedete c'è un'esaltazione di parlamenti nazionali o un uso del Parlamento Europeo contro la Commissione Europea il Parlamento Europeo deve avere più ruolo perché i tecnocrati i burocrati che sono a berla in monti il palazzo della Commissione Europea si muovono sulla base di una logica che non ha radici però non amano tanto il Parlamento Europeo perché il Parlamento Europeo è un'istituzione importante democratizza le istituzioni sovranazionali ha un ruolo nel campo delle politiche del mercato di cui vi parlavo prima molto significativo e soprattutto dentro il Parlamento Europeo ci sono tendenze spinte per avere un ruolo anche nelle altre politiche che prima vi definivo come politiche intergovernative i sovranisti non hanno una posizione chiara su questo cioè la forza del sovranismo è nel criticare ma appena entrano al governo entrano in difficoltà come vediamo in Italia la forza del sovranismo è nella critica distruttiva parassitaria di un bene pubblico di cui loro stessi beneficiano come lo sviluppo la pace e la democrazia per questo motivo gli europeisti devono alzare la voce e possono alzare la voce proprio perché sono anche capaci di criticare i propri limiti per esempio possiamo noi pensare il fiuto che il Parlamento Europeo debba diventare come il Parlamento nazionale ma se noi facciamo del Parlamento Europeo il centro decisionale dell'Europa dentro quel Parlamento europeo ci sono dei maltesi che sono un piccolo stato e dei tedeschi che rappresentano un grande stato e se si deve votare dentro il Parlamento Europeo dove ci sono differenze linguistiche culturali nazionali è evidente che Malta e gli altri 19 piccoli e medi stati sarebbero finirebbero in una condizione di controllo da parte dei più grandi stati che noi potremmo chiamare per molti aspetti come l'hanno chiamato i greci neocoloniali per questo noi possiamo difendere il Parlamento europeo rafforzare la sua funzione ma non pensare per inerzia intellettuale spesse volte per pigrizia intellettuale non pensare che ciò che abbiamo conosciuto fino ad ora debba continuare ad essere così anche nel futuro la testa deve essere sempre aperta ai cambiamenti ma è contentarsi delle verità scontate grazie grazie infinite al professor Fabbrini e io chiederei o al senatore Sonego o a Sergio Chiarotto perché non vedo ma deve essere il mio limite il presidente Enzo Marigliano a uno di voi tre di salutare in maniera più bobbiana il professor Fabbrini a parte mia un ringraziamento grandissimo un saluto e l'apprezzamento per oserei dire il coraggio di prendere posizioni chiare e nette in favore della dimensione europeistica per la vicenda della situazione generale e in particolare per la vicenda che ci riguarderà nei prossime settimane delle elezioni del presidente della Repubblica ricordo oltre ai ringraziamenti l'appuntamento prossimo con Giuliano Amato che non solo il trattamento del presidente della Corte Costituzionale ma entrerà anche nel dibattito per l'elezione del presidente della Repubblica insomma con questo corso l'abobbio è entrata come nel passato nel cuore del dibattito attuale appellandosi anche ad analisi di tipo storico di tipo giuridico e di tipo culturale rinuovo il ringraziamento al professor Fabbrini e do a tutti un grazie per la presenza e un appuntamento a sabato prossimo con il professor Giuliano Amato arrivederci ce l'ho fatta rientrare arrivederci a tutti grazie grazie un'alexio magistralis grazie di cuore arrivederci grazie a voi grazie arrivederci arrivederci buon vi buon vi ciao Guglielmo arrivederci Elena sono qua hai visto che alla fine proprio alla fine sono riuscito ok va bene stavo pensato di aver capito che devo farmi vedere il computer perché c'è qualche problema va bene benissimo mi pare è andata benissimo no complimenti a tutti come complimenti al di là del ruolo istituzionale ho detto complimenti a tutti perché io devo sempre mettere insieme istituzione ma piacere anche questo è stato un piacere grazie certo arrivederci grazie grazie io saluto tutti e chiudo la riunione sì bene ciao Elena grazie ciao ciao ciao